Ma devo dire che questa società nel più bel termine, nell'espressione più bella del calcio rende molto conto alla propria gente, ai propri tifosi. La testimonianza diretta è che si sta cercando di fare uno stadio che sia appositamente utile e confortevole per loro perché noi rispettiamo molto e dobbiamo farlo per tanti motivi il concetto della primarietà, dei discorsi televisivi e delle esigenze televisive, però io credo che Lorenzo sia d'accordo con me. Il calciatore, il tifoso vero lo sente quando sta allo stadio, è come se voi a un attore di teatro lo fate recitare di fronte a un teatro vuoto, io non credo che ci metta così tanta verb e faccia la sua migliore interpretazione, la sua migliore interpretazione la fa con la gente attorno. Quindi devo dire che questa società ha sempre dimostrato di tenere in considerazione il discorso dei tifosi perché se ci troviamo a fare quest'anno una stagione da protagonisti e non a dover ricominciare il ciclo da capo probabilmente proprio perché il Presidente è stato commosso e stimolato da quel famoso striscione che apparse all'ultima partita di campionato in cui c'era scritto Presidente riproviamoci e da lì gli è scattata la scintilla e invece di lasciare ha raddoppiato. A loro che mi sento di dire? Mi sento di dire che tutto sommato io paragono in questo momento l'attività del Frosinone Calcio a quella di una trasmissione televisiva, una trasmissione televisiva può andare in diretta in prima serata, può andare in diretta in seconda serata, può anche andare in differita. L'importante è che poi alla fine si replichi il risultato di due anni fa o comunque ci si metta tutto quello che abbiamo per riuscire a replicare il programma di due anni fa. e questo è un obiettivo che con grande gradualità e con grande serenità il Presidente ha sempre espresso, io ricordo quando nelle ultime conferenze che fece diceva la cosa importante è che la squadra stia prima delle ultime dieci giornate dalla parte sinistra della classifica pronta poi a giocarsi il rascio finale e mi sembra che stiamo a pieno titolo in questo contesto. Io dissi prima della partita con la SPAL che quel risultato a prescindere da quello che sarebbe scaturito non sarebbe stato comunque determinante a niente, né nel caso positivo né in un caso negativo. Comunque sarebbe stato un ostacolo non significativo e devo dire che tutto sommato anche in quel caso ci abbiamo azzeccato perché alla fine stiamo, come diceva il Presidente, siamo stati dalla parte sinistra della classifica e stiamo partecipando al rascio finale. La partita a Ferrara è stata vinta ma chiaramente non ha, come avevo detto, non è stata determinante perché abbiamo ancora tutto quanto da giocare. Credo che il tutto sia in linea con i programmi. C'è bisogno soltanto di grandissima serenità, di grandissima tranquillità e soprattutto di prendere coscienza delle proprie qualità e dei propri mezzi perché una volta che uno è cosciente delle proprie qualità e dei propri mezzi capisce che ci sono giornate in cui riesce ad esprimere al massimo le proprie qualità e ci sono giornate magari per qualsiasi motivo per cui non riesce. Se ultimamente probabilmente non ci sta riuscendo di tirare fuori il massimo questo non significa che quel massimo non ce l'abbiamo perché siamo una squadra importante e i giocatori sono persone importanti, l'allenatore è un professionista importante questa è una società importante che, ripeto, si era precisato il compito di poter lottare fino alla fine e a sei giornate noi stiamo in piena corsa per riuscire ad ottenere l'obiettivo. Ho detto, poi può essere diretta in prima serata, diretta in seconda serata oppure indifferita l'importante è lottare fino alla fine per quello scopo.